Mara, il Capodanno lo passerà a casa. Ha cucinato lei, per quelli che non ci credono, la dimostrazione è in questo video. Allora ragazzi, dovevo uscire e andare a cena da amici e invece ho deciso di fare tutto a casa. Siamo 9, 10, 11... vabbè, dopo le prove sono corsa a casa, ho cucinato, ho cominciato a dire non è vero, c'ha le cameriere, no, non ce le ho le cameriere. Ecco, ho fatto tutto, ho fatto tutto, ho fatto tutto, poi adesso vi faccio vedere lasagna, anzi guarda, vi faccio vedere perché poi voi non ci credete, poi mi vado a cambiare, sono quei capelli raccolti, quei jeans. Allora, ho fatto, così vedete subito, le lenticchie, devo mettere solo il cotechino, poi ho fatto già lasagna da infornare, gatto di patate da infornare. Bicchiere di vino me lo devo fare, poi mi vado a fare la doccia, mi vesto anche. Eccoci qua, amici, abbracciamoci tutte le parole, ecco la mia cuoca pazzesca di stasera, mia moglie. Dimmi tutto, amore mio, che fai? Allora, amore, ho tagliato il salame, poi ho infornato il gatto di patate e la lasagna. Aspetto il cotechino che deve arrivare. Chi lo porta? La Patrizia, le lenticchie sono pazzesche. Bene, amore, buona. Non c'è madre santo. Però buone, 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 buone. Molto elegante, una coca elegantissima. E vive e salute agli amici di Nato Iguori. E tu che fai? Gli amici di abbracciamoci tutte le parole. E tu abbracciamoci tutte le parole, che fai? Io bacio mia moglie, tutto il tempo. Bancazzo, ragazze, bancazzo. Evviva! Questa è la dimostrazione che Mara cucina davvero. Tanti auguri e buon appetito. Tutte cose buonissime. Buon anno! Buon anno! Buon anno! Grazie a tutti